Ringrazio vivamente prima di tutto il sindaco Pierluigi per questo momento di attenzione che ha voluto riservarmi oggi per la memoria di San Lorenzo. Ringrazio e saluto chiaramente la dottoressa Rita, una conoscenza chiesa molto antica e un'amicizia molto cara, ha detto una presenza eccezionale o straordinaria. Io credo fra tutti quelli che sono qui di essere il più antico abitatore di questo luogo e che proprio qui, in un anno ormai tanto remoto, nel dicembre del 1933, proprio in quella prima cappella, quando si guarda dall'altare la navata della chiesa, sulla sinistra, che era, aveva tutto un pavimento cosmadesco, era tutta frescata, nel dicembre del 1930, lì hanno celebrato il matrimonio mio padre e mia madre, proprio qui a San Salvatore Maggiore. Quindi credo che mi compeda un qualche diritto di cittadinanza, in qualche modo. Ma non è di questo che ci tratteniamo questa sera. Ringraziando sia il sindaco che Rida per la varietà delle iniziative, e voi ne conoscete la bellezza e la competenza, io intendo fare il passaggio da questa visita che è stata egregiamente guidata al momento successivo, che è la rappresentazione delle tentazioni di un monaco che noi avremo modo di seguire. Ma come mai in questo luogo una rappresentazione del genere di un testo che risale all'anno mille, ed è di un monaco, Odilone di San Dermanno, e perché? Certo, il trovarci in un luogo abaziale è una forte ispirazione, perché i luoghi, anche col passare dei tempi, delle stagioni, delle vicende che la storia ci presenta, conservano sempre una loro vocazione nativa, e questa è stata un'abbazia, l'abbazia di San Salvatore Maggiore fondata nel 735, e quindi immaginiamo, ecco, il percorso, siamo nell'VIII secolo. Ma l'autore che questa sera ci presenterà, ecco, una sua vicenda particolare, quasi un'autobiografia, Odilone, era di San Dermanno, un'altra abbazia, che si trova in Baviera, non lontano da Reggesburg, e è stata fondata nel 739, quattro anni dopo San Salvatore Maggiore. Lì, questo monaco è entrato nel 1032, è entrato, direi, portato dal suo spirito di dedizione, di avventura, anche di giovinezza, un po', ecco, di intemperanza, lo sentiremo nello snodarsi della narrazione. Ed entra in quell'anno 1032, quando, in quel tempo, forte era la visione millenarista della storia. Nel libro dell'Apocalisse era scritto che quando si compiranno i mille anni, la storia si concluderà. E i mille anni, più i 33 della vita di Cristo, erano stati scelti come l'anno di questa conclusione. Bene, Odilone entra l'anno precedente e diventa monaco. Una vita generosa all'inizio, una vita tormentata, avventurosa, che lo fa entrare in crisi. Ebbe difficoltà notevoli, soprattutto con l'abbate e con il vescovo di Regesburg, per cui lascerà l'abbazia di San Germano e si regherà a Fulda. Fulda è il luogo dove l'evangelizzatore della Germania, Bonifacio, è sepolto e dopo aver fatto la sua grande opera di evangelizzazione, ha costituito il cuore della esperienza religiosa tedesca. lì rimane quattro anni, poi matura ancora di più e torna a San Germano e scrive diverse opere, la vita di Bonifacio, la vita di San Gregorio, la vita di San Magno, eccetera. Ma scrive anche un'operetta che è De Tentazione Spiritale Cuius Dam Monachi, la tentazione spirituale di un monaco. La tentazione. Noi senteremo una narrazione avvincente, da un punto di vista scenografico particolarmente, almeno a mio parere, assai suggestiva, ma è la tentazione. Quando noi sentiamo questa parola, le tentazioni, pensiamo a molte cose, a una pluralità. Il Vangelo, laddove Gesù ci insegna a pregare, dice, non ci abbandonare, cominceremo a recitarlo con la nuova traduzione, dal primo di settembre, non ci abbandonare alla tentazione, al singolare, a potuppa e le smu, per rismos, è la tentazione in greco, è al singolare. Perché? Perché le tentazioni non sono quelle marginali che accompagnano l'esistenza, ce n'è una di fondo. E questo monaco si interroga, ma Dio dov'è? Ma Dio perché? Ma Dio chi è? E intorno a questo interrogativo gioca tutta la sua esistenza, quella pregressa, quella che lo tormenta e quella verso cui guarda. Ed è una narrazione affascinante. È un tema dell'anno 1000, ma ecco, noi che siamo agli inizi del secondo millennio, non siamo ancora nel 2032 come odione di Sant'Ermanno, però siamo in questa stagione, sentiamo che è l'interrogativo di questo nostro tempo. Il nostro tempo non è un tempo in cui la dimensione religiosa scompare, non c'è più neppure la ostilità verso il fatto religioso, ma c'è questo interrogativo radicale. Ma Dio c'è? Nel mercoledì scorso e l'altro, Papa Francesco, facendo le catechesi sui comandamenti, ha parlato della crisi del nostro oggi che è l'interrogazione su Dio, in cui Dio non è l'avversario, ma è il superfluo, è l'insignificante, perché la nostra cultura ci porta a organizzare un'esistenza, quella personale, ma anche quella collettivo, come se, lo dicevano già nel 1500, ex ideus non taretur, anche se Dio non ci fosse. Un monaco, quindi un uomo che sceglie Dio, perché dice San Benedetto nella sua regola al capitolo 58, può entrare in monastero soltanto colui che cerca veramente Dio. Si revera Deum querit, dice, se cerca Dio. Bene, questo monaco Dio l'ha cercato ed entra in crisi. Ecco la sua tentazione e si interroga. La narrazione scenografica, ma in particolare narrativa di questa operetta è di una suggestione straordinaria. Noi l'accompagneremo. Io ne ho assistito ad una rappresentazione, ma mi gode l'animo di poterla riascoltare, perché è una interrogazione profonda, non è superficiale, non ci lascia emozioni tranne che quelle che toccano il midollo della nostra vita. Ecco, io ringrazio chi ha preso questa iniziativa, quanti e nel testo e nella scenografia e nell'esposizione ci arricchiranno di questo dono e faccio a voi l'augurio che questo sole che tramonta sia anche un sole che nasce. Questo che vediamo tramonta, ma nei nostri cuori c'è sempre bisogno di un sole che sorge. La notte, questa notte di San Lorenzo, noi la dedichiamo alle stelle che cadono. Io vorrei che diventasse un'aurora anche per quanti frequenteranno questo luogo e cercheranno di coglierne le voci, perché ci sono delle voci nella storia che vengono a risuonare una volta, la cui eco non tramonta mai. Quella che questa sera il testo che andremo ad ascoltare e a vedere e a sentire, mi pare che sia proprio una di queste. Auguri e buona scelta.